Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo video come già vi avevo anticipato ho già fatto l'altro ordine e mi è già arrivato allora mi è arrivata una casola, però è pesantissima e veramente stracolma questo è relativo alla campagna 18 perché ho approfittato di alcune offertine che stavano in campagna 18 e soprattutto c'erano dei prodottini in anteprima che mi interessavano vabbè uno e quindi ho deciso di fare l'ordine allora innanzitutto mi è arrivato l'anteprima di campagna 3 da ordinare in campagna 1 e anche di questo vi pubblicherò a breve il video poi mi è arrivato un volantino dove c'è scritto super salvi eccolo qua poi mi è arrivato il nuovo volantino della Eniu dove sicuramente ci avranno messo anche la nuova Eniu radicalist comunque eccolo qua e poi poi partiamo diciamo con le varie scartoffe con i prodottini e se trovo le scartoffe ve le faccio vedere allora mi è arrivato per prima cosa questo paio di guanti qua rosa che sono i guanti quelli appunto fatti per per l'iPad o insomma per gli smartphone con i ditini praticamente magnetici poi mi è arrivato allora questa che si chiama che si chiama che si chiama che si chiama Adelian Starf sicuramente non lo leggeri più che è di questo nero rosso molto molto bella ovviamente non l'apro perché non è mia mi è poi arrivato come di consueto un bubble bath da un litro questo è la fragranza romantic rose che è una nuova fragranza uscita in catalogo mi è mi è poi arrivato allora una crema della Anew Platinum da giorno e queste qui stavano in offerta in campagna 18 sui circa sui 18 euro circa quindi insomma prese molto 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 bene mi è poi arrivato allora poi è arrivato questa mousse da Vivaricci extra dell'Advanced Technique con il nuovo packaging guardate nero e blu molto 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 bello mi è poi arrivato un sapone nero della Planet Spa che come sapete io li stra adoro e la cliente me l'ha ordinato quindi insomma eccolo qua mi è poi arrivato un talco profumato per i piedi della Foodworks come sapete io adoro i prodotti della Foodworks perché sono veramente veramente buoni e questo è al Ben Solo e al T3 mi è poi arrivato uno struccante occhi questi da 150 ml che sono quelli bianchi con il tappino nero e questo qua è l'unico prodottino che ho preso per me perché praticamente la cliente non aveva aderito un'offerta c'era la possibilità di acquistare un prodotto a 2,25 euro e io ne ho approfittati prendendo uno struccante occhi perché come capite ne ho usato tantissimi mi è poi arrivato eccolo questo è sempre per me dall'anteprima il Fixing Makeup quello di Avon questa è una confezione da 125 ml ve l'ho fatta vedere in anteprima comunque lo proverò e poi vi farò sapere come mi ci trovo mi è poi arrivato allora una crema depilatoria questa qui che è quella per la doccia diciamo da rasoio della Skinso Soft da 150 ml eccola qua poi mi è arrivato un profumo ultra sexy di Avon eccolo qua che già vi ho fatto vedere perché già ve l'avevano ordinato ma ve lo faccio rivedere perché il packaging è veramente molto 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 carino eccolo qua molto 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 carino con questo concetto e anche il profumo devo ammettere è veramente molto 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 buono mi è poi arrivato uno shampoo all'ore d'Arcan del Marocco in questa mega confezione da 750 ml che come sapete non vi dico niente perché io lo adoro adoro questi prodotti poi mi è arrivato allora della Footworks questo scrub per i piedi al sale marino eccolo qua buonissimi non mi ripeto perché i prodotti Footworks sono veramente ottimi per i piedi poi mi è arrivato questo emolliente della Avon Care e questo è alla pappa reale la confezione si presenta così è piccolo ed è da 10 ml e contiene anche il fattore di protezione 15 mi è poi arrivato una valanca di mascara che vi faccio vedere allora mi sono arrivati innanzitutto due e dico due mascara della linea appunto sexy quindi della linea la stessa linea dell'ossetto e sono tutti e due nella tonalità nero ovviamente non sono miei io non l'ho acquistato perché come sapete è una miriade di mascara da terminare quindi quando avrò tempo lo proverò poi mi è arrivato un mascara dell'Extra Lasting ragazzi sapete che io stra adoro questo mascara è il mio mascara preferito in assoluto non l'ho riacquistato per ovvi motivi di smaltimento ma io lo adoro e poi mi è arrivato questo mascara che è lo Spectra Lush che praticamente è il mascara che qua contiene la rotellina se riesco vi lascio una foto qua che praticamente contiene la rotellina dove è possibile dosare il dosaggio del prodotto da uno a tre livelli mi è poi arrivato un piegaciglio di Avon che anch'io ed è favoloso poi mi è arrivato un l'emolliente labbra quello colorato nella solanità red che non ve lo posso aprire ma se riesco vi metto una foto qua mi è poi arrivato una matita di Colortrend una classica matita nella tonalità appunto nera classicissima matita Colortrend poi mi è arrivato allora uno allora un una base unghie che è quella lì praticamente anti sfaldature che ve la faccio vedere trasparente classica bianca normale che comunque già ho venduto e a chi me l'ha acquistata era molto piaciuta poi mi è arrivato sempre una glimmer stick questa era stava nell'ordine vecchio me ne è arrivata meno male almeno la porta a chi di giovere ed era nella sonalità classica sonalità nera poi mi è arrivato mi sono arrivati i nuovi campioncini della A New Clinical Infinite Lift me ne sono arrivati tre poi ci sono cinque cataloghi di campagna due un volantino di un oro che mi era comunque già arrivato nel pacchettino e per finire la mia cazzina allora ragazzi questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se vi intriga qualche cosa se qualche cosa l'avete provato insomma un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video ciao